Ma è stata a imbrogliare? Sì. Vabbè sì, forse era Paolo Emilio Castagnola, era quest'altra. Allora era Paolo Emilio Castagnola quello là. Paolo Emilio Castagnola, era dove ha preso i sassi di Valizia e poi io ci andavo a fare la cicoria. Ah ecco, andavi a fare la cicoria. Era tutto prato. Era tutto prato era lì. E raccontaci un po' allora, andavi a fare la cicoria perché era tutto prato. Tutto prato. Quindi cicoria ce n'era tanta. Eh beh, è un prato. Da mangiare? Beh, la cicoria c'era. Buona. Io pure al mare stavo da lei. Faccivi la moraccia, ti ricordi? Eh, beh, la moraccia pure, sì. Cioè cos'era? La moraccia è tipo... È una cosa che adesso non si... È un'erba? Sì, è un'erba, però è tipo... come c'è pure quella coltivata che ci rassomiglia un po'. La rucola? Un po' la valeriana? No, no, no. La moraccia è un po' tipo quelle foglie basse, un po' l'umida. Ah, la borraggine forse? Eh, un po' l'arsico. Ah, e quindi raccoglievi tutte queste? Eh beh, era... io la conoscevo perché a paese si mangiava, poi ecco, si... si goceva, ti mangiava quella roba lì. Quindi tanti...